Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì l'anticiclone africano va a rinforzarsi ulteriormente su gran parte del nostro territorio, eccetto sulle regioni settentrionali dove una perturbazione atlantica andrà ad apportare qualche rovescio, principalmente tra Alpi, Prealpi e con temperature massime in lieve flessione. Infatti in definitiva la giornata di lunedì sarà all'insegna del bel tempo su gran parte del nostro territorio, eccetto come dicevo tra Alpi e Prealpi dove segnalo specie nella seconda parte del giorno qualche rovescio anche a carattere temporalesco. Temperature massime che al nord saranno in lieve flessione, valori non oltre i 28-32 gradi, mentre al centro-sud e sulle due isole maggiori il caldo si farà sentire, sarà davvero intenso. Temperature massime in ulteriore rialzo localmente al sud e tra Sicilia e Sardegna supereremo anche i 40 gradi. Tutti i dettagli come sempre in merito alla vostra località sull'app gratuita di Trebi Meteo.